Naturalmente abbiamo anche delle questioni aperte che riguardano in particolar modo del settore della giustizia. Io penso, spero e credo che questo rinnovato rapporto possa aiutare nel rispetto delle leggi dei singoli Paesi anche le soluzioni ai casi più difficili. E allora concludendo voglio dire che la presenza della Presidente della Repubblica del Brasile è per tutti noi un motivo di impegno forte, questo straordinario Paese che tutti noi amiamo.